Amici di Android Blog, stiamo girando questo video con Arcos 79 Xenon Video girato purtroppo solamente in 640x480 pixel e senza autofocus Come di consueto proviamo a camminare e a fare un controluce Controluce in una giornata nuvolosa Proviamo l'adattamento alle luci A muoverci verso destra e verso sinistra Avviciniamoci al nostro vaso di fiori Chiedo scusa per il tremolio Non c'è, ripeto, l'autofocus E il fuoco sembra impostato per immagini piuttosto vicine All'obiettivo della camera Per questo video girato da Arcos 79 Xenon All'obiettivo della camera All'obiettivo della camera All'obiettivo della camera All'obiettivo della camera Grazie a tutti.